Buongiorno e bentornati al Cittadino Digitale. Ormai sono in molti affari acquisti online. Comprare in rete è semplice, comodo e veloce. È la rete abbonda di siti, e-commerce, shop virtuali e altri servizi. Per non sbagliare e cadere in qualche truffa su internet, condividiamo alcuni consigli e suddividiamoli in tre importanti azioni che compiamo durante l'intero processo di acquisto online. Prima di acquistare, quando dobbiamo procedere con i pagamenti? Dopo l'acquisto. Quindi, se procediamo con acquisti online, prima di comprare è opportuno. Fare attenzione ai prezzi troppo bassi. Il prodotto che arriva potrebbe essere contraffatto oppure non arrivare assolutamente. Verificare sempre gli sconti e le promozioni che troviamo in rete. L'offerta proposta non è sempre la migliore. Spesso torna molto utile utilizzare comparatori prezzi, come ad esempio Trovaprezzi o Kelcu, per verificare la promozione. Leggere bene gli annunci, le informative contrattuali e le condizioni di vendita. Informarsi sull'oggetto che si desidera acquistare, contattando, ad esempio, il venditore, effettuando ricerche su internet sia su Google e sia su Google Immagini. Prestare molta attenzione a chi ha fretta di concludere l'affare. Diffidare da chi chiede di essere contattato al di fuori della piattaforma. Verificare il venditore da cui stiamo acquistando. Se si tratta di venditore diretto, ad esempio semplici negozi online, controllare la presenza dei dati sul sito, numero di telefono, indirizzo e la partita IVA. Per verificare quest'ultima possiamo utilizzare il sito web delle agenzie delle entrate. Cercare il nominativo su Google per misurare la sua reputazione. Nel caso di venditore indiretto, come ad esempio Marketplace nello stile Amazon o eBay, valutare il feedback sul Marketplace e leggere i commenti degli utenti. Ed infine acquistare app con lo smartphone utilizzando solamente gli store ufficiali, quali Google Play e Apple Store. Quando abbiamo finalmente scelto i prodotti da acquistare e verificato la serietà del sito di e-commerce, dobbiamo procedere con il pagamento. Vediamo in questo caso cosa occorre tenere a mente. Innanzitutto, prima di inserire i dati, controllare sempre la presenza del lucchetto sul browser e quindi l'utilizzo di protocolli di sicurezza, quali SSL e HTTPS. Scegliere solo i metodi di pagamenti tracciati, quali ad esempio carte prepagate e contrassegno, carte di credito con SMS e di notifica per ogni operazione online effettuata. Evitare invece altre modalità, quali vaglia postale, metodi di trasferimento di denaro e ricariche. Ed infine, dopo aver acquistato, verificare l'integrità del prodotto consegnato. Qualora il pacco appaia visibilmente danneggiato, è opportuno rifiutare la consegna oppure accettarla con riserva, indicandolo sulla bolla. Conservare la documentazione con cura, archiviando copie degli ordini effettuati e di tutte le comunicazioni intercorse. Ed infine, purtroppo, in caso di truffa, inoltrare reclamo al rivenditore, contattare la polizia delle comunicazioni, in caso di pagamento con carta di credito, interpellare il servizio clienti facendo presente dell'accaduto. Sperando che questi consigli possano davvero tornarvi utili per i vostri acquisti online, vi ringrazio e auguro a tutti una buonissima giornata.